22 anni come quelli compiuti da Giulia a maggio, oggi è il compleanno di Filippo Turetta, detenuto in carcere a Montorio dal 25 novembre dopo essere stato trasferito da quello tedesco di Halle. Nel frattempo, proprio in queste ore, dovrebbe iniziare ad essere analizzata dai cari abbinieri del RIS di Parma la grande Punto Nera guidata dal giovane quell'11 novembre, quando ha aggredito a morte Giulia Cecchettina, dandosi poi alla fuga per una settimana fino ad arrivare in Germania, dove è stato arrestato il 19 novembre. L'auto è arrivata venerdì sera in Italia e verrà analizzata in quanto scena del crimine, visto che la possibile coltellata mortale a Giulia è stata proprio data al suo interno. Filippo in carcere trascorre le sue giornate come tutti gli altri detenuti che si trovano nella sezione dell'infermeria. Ha libri e una Playstation e la televisione a disposizione nella saletta comune. Nessun trattamento di favore rispetto agli altri. Divide la cella con un detenuto adulto. Voci del carcere dicono che il ragazzo parli poco e che tiene sempre lo sguardo abbassato. Si vergogna di quello che ha fatto. Filippo Turetta potrebbe ricevere la visita dei suoi genitori, che da quando è stato arrestato ha visto una sola volta lo scorso 3 dicembre. A loro ha ripetuto quello che ha detto anche ai giudici. Non so cosa mi è preso, non volevo. Non so cosa mi è preso, non volevo.